L'esperienza che sto per raccontare è stata trovata all'interno del web. Ho deciso di portarla in quanto è a mio avviso molto esplicativa e può essere utile a chi vuole approfondire il tema dell'astrale. Mi chiamo Karen, ho 27 anni e fin da quando ero bambina ho avuto svariate esperienze di separazione dal corpo. Chiaramente quando ero piccola non mi spiegavo il motivo per cui saltuariamente mi ritrovavo a vivere determinate esperienze che per me erano un misto tra l'affascinante e lo spaventoso. All'età di 12-13 anni dormivo spesso dalla nonna paterna perché i miei genitori dovevano svegliarsi presto per andare al lavoro. Dormivo a casa sua perché in questo modo potevo alzarmi più tardi ed andare a scuola accompagnata da lei con più calma. In quegli anni ho iniziato ad avere esperienze che mi avrebbero successivamente cambiato la vita. Ricordo di una notte in particolare. Ricordo di aver avuto la sensazione che la stanza stesse ruotando intorno a me. In realtà era una sensazione anche piacevole. Era come se sprofondassi sempre di più in uno stato di calma e rilassamento. In seguito però ricordo che iniziai a percepire delle vibrazioni salire lungo il mio corpo. Anche in questo caso all'inizio la cosa era del tutto piacevole. Poi però all'impennarsi dell'intensità delle vibrazioni iniziai a sentirmi strana e non più perfettamente a mio agio. Decisi comunque che la cosa migliore da fare fosse quella di lasciarsi andare a questa sensazione e provare a dormire in tutti i modi. Ricordo di aver udito un suono come quando fischiano le orecchie ed in seguito un rumore sordo e profondo come di bottiglia divino che si stappa. Ero immobilizzata. Potevo osservare la stanza nella penombra, scrutare il letto, la mobilia, i pupazzi poggiati sulle mensole, ma non riuscivo a muovermi. Ricordo che vidi un altro letto a qualche metro da me, cosa davvero strana in quanto nella stanza era presente solo il mio di letto. Scrutando bene vidi che effettivamente c'era una persona sdraiata su quel letto. Non riuscivo ad alzare lo sguardo, quindi non potevo vedere il viso. Riuscivo a vedere solamente dalla vita in giù, ma assolutamente non fu in grado di riconoscere chi fosse. In quel momento iniziai ad avere paura. La figura era immobile, non sembrava minacciosa, ma ero immobile anche io e questa cosa mi faceva stare male. Provai a chiamare mia nonna. Riuscivo effettivamente a muovere le labbra, ma la voce non usciva. Allora provai a gridare più forte la parola nonna, ma per quanta fatica facessi era come se solo un flebile fiato uscisse dalla mia bocca, tanto che solamente io potevo udire quella parola, nonostante io ero sicura che stessi gridando. Decisi che la cosa migliore da fare era di lasciarsi andare, chiudere gli occhi e aspettare che il tutto passasse, ripetendo fortemente dentro di me. Voglio svegliarmi. Voglio svegliarmi. Anche se dentro di me ero praticamente certa di essere sveglia. Con estrema fatica riuscì effettivamente a riaprire gli occhi. Ero nel mio letto. Nella stanza c'ero solo io. Tutto era come lo avevo visto qualche secondo prima. La mobilia. I pupazzi. Pensai che fosse stato un sogno che di certo non avrei mai più voluto ripetere. È stato tutto un caso, pensai. E' guai se non lo fosse stato. Per molti mesi successivi effettivamente non ebbi più queste esperienze, ma in realtà mi stavo solo illudendo. Ecco che una notte, completamente casuale, ebbi nuovamente un'esperienza simile. La stanza che ruotava, le vibrazioni ed il suono nelle orecchie. Oh no, ci risiamo, pensai. Non volevo assolutamente ripetere quell'esperienza, quindi, al contrario della prima volta, in quella circostanza, iniziai ad opporre una forte resistenza, ripetendo tra me e me, non voglio, non voglio. Effettivamente i brividi si interruppero, e così anche la sensazione di rotazione e gli acufeni. Queste esperienze le ebbi da quel giorno quasi costantemente per i mesi successivi, ma ogni volta ero in grado di opporre resistenza, di non lasciarmi andare e di interrompere quello che stava per accadere. Iniziai a pensare che ci fosse qualcosa che non andava nella mia testa, ma non ne volevo parlare con i miei o con mia nonna, perché pensavo che si sarebbero preoccupati inutilmente, per una pazza che semplicemente trema mentre dorme. Una notte, in particolare, accadde qualcosa di diverso dal solito. Percepivo sempre le solite vibrazioni, sensazioni di formicolio lungo tutto il corpo e il rumore nelle orecchie, ma cosa stranissima ed inquietante, percepivo il lenzuolo del mio letto scivolare verso i miei piedi, come se qualcuno lo stesse tirando. Ma nel momento in cui io ponevo resistenza ed aprivo gli occhi, era come se nulla fosse accaduto. Questa scena si ripetè per due o tre volte prima di addormentarmi definitivamente. Al contrario delle altre volte, questa esperienza mi lasciò un po' più scossa. Fino a quel momento non mi era mai capitata una cosa così realistica ed inspiegabile. Quella mattina, facendo colazione con mia nonna, non riuscì più a trattenermi. Senza a mostrare paura e, con il sorriso sul volto, spiegai tutto a mia nonna. Le esperienze passate, le vibrazioni e quello strano avvenimento finale. Mia nonna non appariva spaventata, anzi, disse che cose del genere le aveva già sentite da mio padre. Disse che anche lui provava queste sensazioni quando era piccolo e mi disse che lui era addirittura in grado di compiere dei viaggi in seguito a queste manifestazioni corporee. Non volevo crederci, ma mi confortava il fatto di poter essere creduta, di non sentirmi una folle. Mia nonna si fece seguire nel salotto, dove era presente una fornita libreria. Mi disse che tanti anni prima della mia nascita, mio padre aveva acquistato un libro che custodiva gelosamente. Era un libro su gli obe, o esperienze extracorporee. Io a quei tempi non avevo la minima idea di cosa fossero le esperienze extracorporee o i viaggi astrali, e devo ammettere che non ero neanche molto attratta dalla lettura. Basti considerare che, dei centinaia di libri presenti in quella libreria, non ne avevo letto mai neanche uno. Ma dato che la materia riguardava la mia pellaccia, decisi che forse era il momento di cominciare. Nel leggere quel libro mi accorgevo con stupore che pagina dopo pagina erano riportate cose che mi accadevano nel quotidiano. Iniziai a pensare che non potevano essere invenzioni fantastiche se effettivamente le provavo sulla mia pelle, e che non ero poi così strana se anche qualche altro aveva descritto in modo così meticoloso questo processo, che non risultava poi così sconosciuto. Iniziai a leggere di viaggi astrali, uscita fuori dal corpo, di corpo etereo e livelli energetici. Iniziai a leggere che la paura percepita in realtà non aveva senso di esistere, e che vi erano dei comandi vocali che potevano essere utilizzati per meglio orientarsi durante lo svolgimento di questi viaggi. Qualche tempo dopo, decisi che era arrivato il momento di testare quanto letto, e di metterlo in pratica, superando la paura e cercando di vincere la mia reticenza. Mi misi a dormire con la convinzione di voler provare a viaggiare in astrale, ma incredibilmente in quel periodo non riuscivo ad avere quelle sensazioni spontanee che avevo avuto nei mesi precedenti senza volerle. Poi, qualche mese dopo, ebbi di nuovo quelle sensazioni e riuscì a sperimentare quanto appreso. Vinzi la paura e mi lasciai andare alle vibrazioni. Di nuovo sentii un forte rumore, una sensazione di bottiglia che si stappa, ed eccola lì, nuovamente, quella paralisi. Non vedevo nulla. Era tutto nero. Stavo iniziando a perdere la calma, ma poi ricordai di aver letto che era molto importante pronunciare con l'intenzione le parole «consapevolezza ora». Lo feci, ed improvvisamente mi ritrovai ad osservare la mia stanza dall'alto. Ancora una volta potevo osservare i mobili, i pupazzi, il letto, e anche in questa occasione ebbi un tuffo al cuore. Avevo letto che durante un viaggio astrale era possibile visualizzare il proprio corpo dormiente sul letto, ma vederlo realmente era tutta un'altra cosa. Era lì, su quel letto, immobile. Ero io. Ed improvvisamente mi sovvenne un'idea. Che anche quella volta, quella mia prima volta, su quel letto, c'ero io, solo che non riuscivo a vedermi in volto. Provai a mettere in pratica quanto letto nel libro, ma l'emozione era davvero tanta. Sentivo crescere dentro di me sensazioni mai provate fino a quel momento. Provai a spostarmi, con la forza della volontà. Volevo provare ad attraversare le pareti. Ci riuscì. Ero fuori di me dall'euforia. Potevo vedere le altre stanze, il divano, la televisione, le sedie. Ad un certo punto iniziai a volare fuori dalla casa, in alto, verso il cielo. Volavo sempre più veloce. Potevo ora vedere il quartiere, la città, e andavo sempre più in alto. Volevo fermarmi. Avevo paura. Sempre più in alto, e sempre più paura. Tanto che ad un certo punto, senza volerlo, per la forte emozione, ritornai catapultata nel mio corpo fisico, e mi svegliai. Che esperienza. Che sensazioni. Che emozioni. Da quel giorno provai sempre più volte tali esperienze, fino ad arrivare a controllare molto bene i miei viaggi. Posso sicuramente affermare che nella vita ad oggi non ho ancora mai provato nulla di più emozionante e meraviglioso. In alcuni viaggi sono riuscita a visitare altri mondi, a parlare con entità differenti, ma questo meriterebbe una storia a parte. Sono convinta che, se non avessi avuto una guida, qualcosa con cui confrontarmi, probabilmente sarei rimasta nel timore di cosa potesse essere questa esperienza. Condivido questa storia perché possiate anche voi trovare una valida guida ed affrontare queste esperienze consapevolmente, mettendo da parte la paura.